Avvocato, il Partito Democratico Grigentino respinge la sua richiesta di tesseramento nel PD, vengono fuori una serie di motivazioni, lei ne contesta molte di queste? Io contesto l'unica motivazione seria, cioè che avrebbe avuto una capacità di negarmi la tessera, la motivazione se fosse stata fondata. Ai sensi dello Statuto, che loro citano, se io fossi stato rinviato a giudizio come loro scrivono, per gravi reati contro la persona e per tendata estorsione, non avrei diritto alla tessera né avrei la possibilità di candidarmi nel Partito Democratico. Questi signori scrivono che io sono stato rinviato a giudizio per tendata estorsione, poiché io non sono mai stato rinviato a giudizio né per tendata estorsione né per altri gravi reati in danno alla persona. Loro mi hanno diffamato, hanno posto in essere una diffamazione a mezzo stampa e poi soprattutto hanno posto in essere un tentativo di truffa. Io li sto denunziando non soltanto per diffamazione aggravata che pacifica, ma ritengo che ci sono anche gli estremi della truffa aggravata. Asserire al partito siciliano e romano che Arnone è incompatibile perché è rinviato a giudizio costituisce un inganno, un raggiro. Ed è un raggiro finalizzato a favorire Giacomino Di Benedetto, Giovanni Panepinto, che non vogliono avere un concorrente elettoralmente molto forte come Giuseppe Arnone in lista del Partito Democratico alle regionali. Quindi siamo in presenza di raggiri finalizzati ad ottenere un profitto anche economico, cioè la ingiusta elezione di quelle persone, in danno a me. Mi pare che il reato di cui all'articolo 640, cioè la truffa aggravata, lo integriamo pienamente. Tra le varie motivazioni però anche quelli del PD agrigentino dicono che l'avvocato Arnone attacca tutti noi, sia a livello locale, regionale e nazionale. Com'è che un soggetto del genere può stare dentro il nostro partito? Si chiedono e queste sono le motivazioni. Ma il punto non è questo. Mi avete mai sentito attaccare Lumia o Crocetta o Veltroni o Bersani? Io attacco le persone che meritano le critiche più serrate.